Ciao a tutti ragazzi da Coach Gabri, bentornati sul mio canale oggi come vedete dalla location vi do un po' diverso perchè sarà meno teorico, tornerò un pochino di più per questo video a fare un vecchio stile diciamo che vi porterò con me in quello che è il mio allenamento della giornata e ho deciso di farlo perchè sarà un po' particolare in realtà andremo, sarò ospite di coach Damiano Mares perchè insomma andremo a fare questo allenamento insieme andrò da lui, farò un workout in stile bodybuilding molto probabilmente il focus sarà sul petto quindi sono solo contento e poi ci sarà il momento post workout in cui sceglierà lui cosa dovremmo mangiare quindi pancia mia fattica panna e ho deciso di portarvi con me perchè ci saranno dei concetti che andremo a vedere un attimino insieme capire come lui sta sviluppando la parte di coaching e soprattutto sta per affrontare un'avventura abbastanza importante che non vi accenno, non vi anticipo vi lascerò dire direttamente da lui più tardi innanzitutto prima di partire questa bella ciotolona bowl di... cos'è? si, ho fatto un porridge di avena con proteine e c'è dentro un po' di frutti rossi un po' di miele e semi di chia dopo mangerò anche un paio di gallette con dello yogurt greco e forse una banana insomma vediamo un attimino e poi parto anche perchè devo stare un po' attento ad alzare troppo le calorie perchè secondo me dopo ci sarà da mangiare parecchio e però ci sta dai ci sta mangiare per la performance oggi perchè avrò un doppio allenamento poi stasera avrò anche le classi con bodyfit quindi c'è da spingere ho deciso di mettermi fuori che c'è un po' di sole e si sta meglio e a proposito di coaching comunque è ufficiale è uscita la mia app la Coach Gabri Hybrid Training la trovate su Apple Store Google Play chiaramente è gratuito il download e lì caricherò tutto quello che ci sarà da fare in termini di coaching one to one quindi poi avrete direttamente accesso a quelli che sono le mie schede i miei workout, le mie programmazioni e si parlerà insieme chiaramente sarà tutto strutturato e personalizzato e semplicemente però tutto quello che sarà poi la vostra programmazione sarà caricato su questa app con tutto sempre più figo e fatto bene io adesso mi zippo questo super porridge e vado ok sono arrivato qui al physique lab di Damiano e di Kami e guardate si può vedere penso dalla maglietta fa un caldo allucinante però ci siamo pronti a spingere chest workout ahhh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti